Io vi ringrazio tantissimo e ringrazio anche le condivisioni delle altre persone che hanno esposto anche le proprie esperienze, perché hanno dato modo veramente di riflettere, come uno specchio, uno ci si può rivedere, quindi grazie. Ringrazio anche Marcia perché ha detto anche delle cose molto, ci sono rivista molte cose, veramente grazie. Grazie a tutti voi. A te.